La nostra gente è dispersa, come stelle nella galassia. Cosa siamo? Per cosa ci battiamo? Essere un mandaloriano non è solo imparare a combattere. Devi anche saper navigare nella galassia. Ora, in questo modo, non ti perderai mai. Sto andando su mandalor. Così forse mi perdoneranno per le mie trasgressioni. Che la forza sia con voi! Questa è la via. Sta succedendo qualcosa di pericoloso. E quando tu potrai finalmente intervenire... Sarà troppo tardi. Tieniti, piccolo. Questa è la via.